buongiorno risveglio al parcheggio sulla strada pericola del agnello abbiamo dormito qua e considerando che non abbiamo anche riscaldamento abbiamo dormito molto bene super coperta termica andata benissimo solo che ci siamo risvegliati e stanno ricchiando non è proprio tempo ideale stanno arrivando le prime macchine i primi sono arrivati alle 6 adesso sono le 7 ma non c'è il caos che c'era ieri a quest'ora saliremo al colle dell'agnello poi scenderemo dietro e risaliremo se tutto va bene perché il pig de foren infatti è pronta ha anche dormito e ho il terrore di avere freddo il nostro super furgone questo passaggio è sempre tolto c'è già uno quasi in punta la strada al mercato le condizioni non sono ottimali oggi brago Buon appetito! In Cresta, il riscaldamento è stato buono, adesso bisogna vedere un po', facciamo subito una bella discesa, il lato francese è stato aperto, qua non è visto proprio che il griflore è quella lazzù, questo è il salio scendi Grazie a tutti e si ripella un simpatico vento orecchie un po' a letto, tira un vento di gelido poco e poi in teoria si può scendere e arrivare al lago sotto la Tayant che ragione sto freddo per arrivare l'assù o vale la pena scendere un po' a letto un po' a letto un po' a letto Childish Lowry Depart Davo Davo Devono Sili Rilass 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 It's not me It's not my Family In your head They are Fanty Grazie a tutti 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 Fantastico Grazie a tutti Che figata Che figata Grazie a tutti Buongiorno Yeah Grazie a tutti Grazie a tutti Do you have to Buongiorno 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 Buongiorno